Terminata la fase a gironi della Champions League, definiti anche gli ultimi piazzamenti, ecco quali squadre possono incontrare agli ottavi di finale il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. I rossoneri non hanno sbagliato l'appuntamento in casa contro il Salisburgo, l'Inter invece, dalla sconfitta inutile contro il Bayern Monaco, ne esce rafforzata nelle consapevolezze. Le avversarie che le due squadre di Milano potrebbero incontrare sono pressoché le stesse, con l'unica eccezione di quella già presente nel loro girone. Inter e Milan potrebbero trovare due portoghesi come Benfica e Porto, due inglesi come Tottenham e Manchester City, oppure il Real Madrid di Carlo Ancelotti. L'Inter potrebbe anche pescare il Chelsea, mentre il Milan e il Bayern Monaco. Quali pensate che saranno gli accoppiamenti per gli ottavi di finale?